Non si parlerà solo di intelligenza artificiale, si parlerà ad esempio di sanità digitale, si parlerà di blockchain, si parlerà di identità digitale, quindi di wallet europeo, si parlerà di tutto ciò che in un certo qual modo rappresenta l'evoluzione tecnologica che è in corso e che non è solo intelligenza artificiale. Certo, intelligenza artificiale è fondamentale perché è la madre di tutte le grandi tecnologie del momento, però compito come lei che è anche quello di prendere le singole espressioni del mondo tecnologico e metterle insieme.